Faccio questo video veloce per far notare una cosa importante in questo video che ha fatto Mario anche se su molte cose non sono un po' d'accordo su Mario che insomma se la prende con gli ebb rei no alla fine siamo tutti sulla stessa barca e comunque nessuno ha la verità in mano dobbiamo comunque rispettare le altre insomma l'ho già detto queste cose secondo me noi non dobbiamo odiare nessuno tanto comunque come vediamo in questo video la gente chiude gli occhi e la gente stronza e li manda li punisce nel 2020 2021 abbiamo visto come li ha puniti ci vanno da soli quindi noi non dobbiamo odiare nessuno noi non dobbiamo cioè non sono d'accordo su quello con Mario però per il resto c'è questo punto qua che è molto importante che ha beccato Mario qua faccio partì sentiamo praticamente si parla del fatto che intanto qui cosa abbiamo qui abbiamo un cattolico modernista che lo chiama Mario cioè uno che ha parole dice di essere cristiano però insomma in realtà è modernista cioè molto utile al programma del nuovo ordine mondiale no e qui abbiamo un ebb rea un rabbino devo parlare così perché sennò youtube capta certe parole chiavi blocca il video quindi addirittura qui si parla anche del vach quindi devo cercare di urlare quando parla dicono quella parola la quindi però sentiamo sentiamo questo video Mario addirittura dice che noi non dobbiamo nemmeno parlare con gli ebb rei li non sono d'accordo ovviamente nel senso che non è che devo andare devo cercare la gente però se qualcuno è curioso parliamo cioè quello che vuole quello che vogliono quelli in alto è dividerci odiarci uno con l'altro no non bisogna farlo ragazzi e sentiamo un attimo il video praticamente qui si parla lui sta dicendo che noi dobbiamo quando c'è stato il cogliona noi dobbiamo pensare alla comunità e non alle libertà così individuali quindi classico pensiero del nuovo ordine mondiale no cioè il comunismo vuole che noi siamo ingranaggi cioè pensiamo a questa grande macchina ma non a noi stessi no e questo tipo di pensiero va in contrasto con quello che dice il cristiano no perché il cristiano dice dio mi vede individualmente ci vede individualmente e se io sono buono mi comporto bene non importa niente non devi seguire infatti gesù dice se sei del mondo non sei mio cioè se tu vuoi fare parte del mondo non sei mio per i cristiani la cosa più fondamentale e molto pericolosa per il sistema è questo individualismo in qualche modo nel senso che noi ci salviamo singolarmente invece per il nuovo ordine mondiale che vuole metterci insieme come ingranaggi tanti ingranaggi insieme ovviamente il contrario i tuoi bisogni sono nulli tu devi pensare alla comunità infatti lui dice che noi dobbiamo pensare a prendere i succhi magici no ok sentiamo e poi lo collego questa cosa qua con un video che ho fatto tempo fa di Umberto Calimberti che dice la stessa cosa così capiamo che che il loro piano questo sentiamo cioè questo di unire le pregore no di non pensare individualmente ma devi pensare più alla comunità sentiamo capito che ha detto dobbiamo pensare alla comunità quindi farcelo il vach ok cioè il Talmud parla della collettività non dell'individualità mentre la religione cattolica parla dell'individualità della salvezza individuale delle anime questo ha insegnato la chiesa cattolica per come la samasako chiaro ok è questo però questo modo di pensare infatti perché loro devono cancellare tutte le religioni proprio per questo fatto qua perché a loro non va bene una persona che pensa individualmente e non comunistamente in comune no infatti qui ce lo abbiamo la conferma anche in questo pezzo qua di quest'altro mostro qua aristotele dice con estrema chiarezza che se uno pretende di vivere solo senza avere bisogno degli altri e senza relazionarsi agli altri dice aristotele o è bestia o è dio ragazzi aristotele tutti questi filosofi sono vomiti del sistema altrimenti non ritroveremo come eroi nei nostri libri e a proposito di dio dice che dio non può essere felice perché monacos perché è solo ecco queste cose i greci le avevano capite cristiani hanno girato la frittata non c'è più la relazione prima dell'individuo ma c'è l'individuo prima della città capito la prima la cosa più importante è salvare l'anima individuale non si salva collettivamente e allo stato alla comunità che compito si affida si affida il compito di togliere tutti gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima questa cosa enunciata ad agostino nel 300 400 avanti cristo perdura ancora oggi i famosi principi irrinunciabili erano quei principi che se fosse se si fosse rinunciata venivano percepiti dal mondo ecclesiastico come impedimenti alla salvezza dell'anima ecco è stato cristianesimo mettere al centro l'individuo capito ragazzi perché loro devono cancellare tutte le religioni perché comunque a parte che anche i cristiani adesso che vanno in chiesa non gli dicono queste cose che sto dicendo qua loro comunque cercano di così modificare la loro religione in modo che sia più per la comunità e meno per l'individuo no la salvezza dell'anima individualmente no cioè nel senso che tu in una comunità la comunità può anche buttarsi al fiume tu non ti butti cioè tu non fai la cosa sbagliata tu fai la cosa giusta come fece bill cooper ragazzi bill cooper diceva a me non ne frega niente che mi ammazzeranno io voglio piacere a dio e si è fatto ammazzare alla fine dicendo la verità non facendo lo schiavo ecco quanti cristiani come bill cooper ci sono oggi zero prima della comunità tant'è che russo dice che cristiani non possono essere dei buoni cittadini e non lo possono essere lo possono essere di fatto ma non di diritto capito russo ragazzi che è stato preso come eroe del movimento cinque stelle capito non vanno bene cristiani perché pensano individualmente e non alla alla cinese doveva pensare come degli ingranaggi alla a questa grande macchina a quel punto non c'è più l'uomo a quel punto stai lavorando per per satana proprio perché stai lavorando per questa grande macchina che sta facendo cose orribili e del bene del male te ne fotti proprio del giusto te ne fotti perché viene prima sempre quello che vuole la macchina la macchina il 2020 2021 ci ha voluti tutti che prendevamo il succo magico eccetera e se non lo facevi sei un uno che vuole la morte degli altri capito quale morte dove sono i morti che non si sono fatti il coso dove perché per loro qualche conto è salvare l'anima capito i cristiani e quindi non pensano alla comunità non la comunità non la comunità capito gallimberti ragazzi non del sistema un vomito del sistema lui vuole la comunità bene questi bambini dopo che si sono fatte le loro mappette cognitive ed emotive come potuto farsene vanno a scuola elementare vabbè a qui finiamola qua ciao